Termina qui il primo tempo di Inter 0-Milan 0, l'euro tempi di Milano Allora è stata una partita molto divertente, con tante occasioni di gol Però l'Inter meditava senza altro di più Per me il Milan non ha giocato bene Per me il Milan non ha giocato bene, passi in avanti Rispetto alla gara d'andata ma ci mancherebbe altro Ma ragazzi se questo è il Milan Cioè per me questo non è mai il Milan vero Cioè ragazzi, il Milan sì, va bene Poteva fare due gol con Brandiaz e Leao Ma uno c'era braccio netto di Leao mi sembra se non vado errato L'altro sul primo c'era un fallo netto su Banella Dal metro oggi non lo sto comprendendo Quindi erano due gol che andavano annullati Perché si mangiano due gol clamorosi Ibrahim e Leao Perché Ibrahim ha tirato una scorreggia Dio mio che se la ricordava per tutta la vita Leao dopo aver fatto quella magica giocata Leao non ha fatto niente se non quello Tira fuori ma anche di tanto Leao a parte quel guiz ha perso tanti palloni Su me sta giocando molto bene l'Inter in generale Si sta difendendo benissimo L'Inter è andata vicino a noi ma ragazzi Cioè l'Inter poteva anche essere in vantaggio di uno o due gol Come il Milan poteva segnare un gol L'Inter poteva segnare un altro Chiaro che almeno l'Inter merita il vantaggio Perché si è vero magari Il Milan in dei momenti ha anche attaccato di più Ma l'Inter incontro il piede fa malissimo Cioè Calabria che mi sembra diventato il giocatore di tanti anni fa Quando ero fischiato in evoluzione totale secondo me Sta soffrendo Forse uno dei pochi che oggi mi sta facendo al Milan è Ciao Forse uno dei pochi Forse uno dei pochi perché La difesa del Milan è totalmente sconnessa Ma Ciao sta facendo una partitona secondo me Il mio rincampo è probabilmente Magnan Che ha fatto tre parate da brividi Ha fatto la prima parata su Geku Che non è una parata banale È una parata di reattività Perché ok la tira addosso Ma deve essere reattivo in quella circostanza Poi penso anche alla seconda su Michi Tana Comunque tosta Penso anche No forse su Barella La più bella probabilmente è la terza su Geku Una punizione colpi di testa di Geku Magnan La para di avambraccio Credo fa una parata ragazzi Il vero top player mio non ne ero mai Magnan Alzo le mani Alzo le mani Comunque ripeto Milan sicuramente meglio rispetto all'andata Ma l'Inter stramerita di passare il giorno senza Ma Anche negli ultimi minuti Tiro fuori di Diotaro Tiro alto di Barella mi sembra Cioè l'Inter ha creato veramente tanto stasera L'Inter poteva segnare tanto Perché anche il Milan si è mangiato due gol Non tanto quello di Deo ma quello di Brandias Scandaloso Non puoi tirare veramente una mozzarella lì Spaccare la porta di collo ecco Poi Leao poteva fare meglio sicuro Però ragazzi Se guarda i miei tiri Sette tira quattro È vero che l'Inter la tira una volta in porta Però Magnan fa tre parate Da fenomeno Fa tre parate da fenomeno Nata invece si è buttato praticamente una sola volta E farei il tiro di Brandias Inter secondo me Nettamente meglio di questo Milan E Merita secondo me il vantaggio Ma in generale sta meglio Si vede Non credo che cambierà qualcosa Io spero che non di sbagliarmi Spero che il Milan passerà Ma al 99,99,99,99% Passa l'Inter Secondo me In una squadra di calcio Quando si vince È merito di tutti Quando si perde È demerito di tutti Però voglio sottolineare tante cose Perché ci sarebbe tanti Qui Discutre In questa partita Ecco Allora Mi aspettavo assolutamente questo risultato Proprio una partita del genere A parte che Non ho minimamente supportato la telecronaca Ma non perché Marinoza non sia bravo A fare la telecronaca Assolutamente no Ma Ma sono i loro pensieri che Mi hanno veramente mandato in besta Perché Quando ha segnato il gol l'Inter Aveva detto Il Milan da qualche minuto E sotto l'Inter Da qualche minuto Aveva perso l'ucidità Il Milan ragazzi De secondo tempo Non ha tirato in porta Non ha tirato in porta Scusatemi E per quanto possa fare la differenza Le ha in certe partite Tutte di Eh male Eh male Ragazzi Se però Questo è il livello attuale Il Milan C'è da Farsi due domande Perché neanche l'anno scorso Il Milan Aveva una squadra Forte a livello dei singoli La differenza l'ha fatta il gruppo La differenza l'ha fatta l'allenatore La differenza l'ha fatta la società La differenza L'ha fatta comunque Il fatto Che Ci avevano creduto Nessun cambio E dico Nessun cambio Prima del gol dell'Inter Nessuno ragazzi Cioè io vedo un allenatore Spaisato Che secondo me Il maggior risposta Di questa situazione Una società Assente completamente Perché Certi giocatori Ragazzi Ma adesso aspettiamo Pogba E Dico Pogba Che ha infortuni fisici Da almeno due anni Con una gamba sola Giocherebbe meglio di Di Messiasi Krunic Cioè Una roba Ragazzi Perché Ehm Pogba E' sempre rotta Certamente E' vero Non tornerà mai A livello di prima Però Pogba L'1% Della condizione Cioè Pogba Posta Minisco E' rientrato Benissimo E' rientrato Benissimo E' rientrato Veramente bene Con l'Ecce Ha giocato bene Col Sevilla Ragazzi Pogba Ha cambiato la partita Penso a quel numero Lì con la testa Cioè Comunque Accendiamo il cervello Ragazzi Accendiamo anche il cervello Perché Non è solo colpa Delle allenatori Della società Ma anche Di giocatori Perché vede un Milan Senza voglia Vede un Milan Senza ancora voglia Vede un Milan E' veramente Vergognoso E' secondo me La prima volta In cui veramente C'è una crisi Totale Ma proprio Fallimento E non è tanto Per il quarto posto Per il quinto posto In campionato Perché la nostra È più o meno Dal quinto quarto posto Ma il problema E' dal campione d'Italia E' dal campione d'Italia L'allenatore Che non ci sta capendo Niente ragazzi Sarò scritto oggi Non sono Io Lo sapete Benissimo Io non sono uno Molto diretto Alcune volte Certe volte Sì E questa volta Lo voglio essere Ma ragazzi Ma veramente Vogliamo Cioè Vogliamo dare le colpe Sulla società Ragazzi Perché Sì Ok La Rosemmia Non è fortissima La Rosemmia Ne è stata depotenziata Va bene Però Con L'ossatura Più o meno Degli scorsi anni Mi ha vinto il campionato L'anno scorso È arrivata a seconda Cioè Due anni fa Scusate E perché Quest'anno E perché Ci sono certe partite Vergognose E perché In compita Esce col toro E perché Supercoppa Perdi 3-0 Con l'Inter E non voglio Assolutamente Non dare i meriti All'Inter Che ha strameritato Questa Qualificazione Con un gol Il bello Il bello Il bello di Lautaro Strameritato Visto che L'Inter Ha nettamente Giocato meglio Del Milan Oggi Non c'è stata partita Secondo me Ragazzi Messias Krunic Pensò che Al downgrade Il tumore Che forse Rispetto ad altre partite Oggi ha fatto Qualcosina in più Ma ragazzi Cioè Ma veramente Ci sono dei giocatori Che non sono da Milan Ci sono dei giocatori Che fanno ridere Ci sono dei giocatori Che fanno ridere Con tutto il rispetto Per Krunic Non metti in dubbio Che Krunic Sia sempre a disposizione Non metti in dubbio Che Krunic Si impegna Però ragazzi Cioè Krunic Ha sbagliato Qualsiasi cosa E non ce l'ha solo con lui Ci mancherebbe Però ragazzi Messias Messias è stanco Avevano detto a Sky Ma ragazzi Messias Si è stato mai in partita Cioè Messias Ragazzi Ha fatto una stagione Ovviamente Da Messias Uno ce la solo può Anche aspettare Anche da Krunic Però veramente Messias Non ha mai superato Di manco L'Inter Ha attaccato Soprattutto Sua fascia sinistra Perché? Perché non c'è Messias Perché non c'è Calabria L'involuzione in Calabria L'involuzione in Calabria È qualcosa di Incredibile È qualcosa di Incredibile ragazzi E voi Vedete Eh 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 Il Milan Il problema del Milan Il problema del Inter Cioè scusate Il Milan È che Non ha i giocatori Punto uno Perché Sarebbe tantissimi Dove non sono da mia Primo motivo Cioè Secondo motivo Allenatore Io vedo un piole rassegnato Eh ma possiamo battere l'Inter Che è una cosa che può accadere Ma non in questo contesto storico Perché il Milan Non sta bene Si vede Donario oggi ha faticato molto Anche se Nel primo tempo Su me non aveva fatto così male Brahim Diaz Sta calando tanto Girù invisibile Cioè ragazzi Fatemi dire Il Milan Sta ritornando Quello lì Nel 2017 2018 Se non peggio Grazie a tutti